Noi pescheremo una carta a caso e in base a questa carta andremo a ricordare delle cose che abbiamo vissuto, nove di denari. La carta in questo caso mi parla di benessere, successo, soddisfazione, abbondanza dovute a una nostra scelta e quindi ora io domando a voi, inizio da Rita che in questo momento è la più sveglia. Il mio lavoro, ho imparato a fare la sarta e l'ho imparato molto bene, sono stata molto contenta perché dopo facevo delle cose che mi sembravano impossibili di poter fare e io sono contenta di questo. Come lo hai imparato il tuo lavoro Rita? L'ho imparato da una signora che lei era già sarta. Quindi l'hai imparato da qualcuno? Sì, che poi è diventata mia suocera. L'hai imparato da una signora che poi è diventata tua suocera. Sì, bene però sono contenta. Poverina è morta ormai anche lei, però è andato tutto bene. Senti Rita, questa cosa tu l'hai imparata e hai costruito subito un'azienda tua? Sì, lavoravo più sola. Lavoravo in casa perché avevo i figli, avevo un marito, insomma lavoravo in casa e ho fatto quello che ho potuto. Perché non è tanto facile in casa, si guadagnava poco e si lavorava tanto. Però questo ti ha reso autonoma e indipendente? Sì, ma io sono stato contento. Ok, ok. Grazie Rita. Questo è stato il tuo nove di denari? Il mio nove di denari è stato poter tornare normale, perché mi giudico normale. Niente di eccezionale, ma ho fatto tutto un anno, una gavetta dura, però sono riuscito a venirne fuori. Le varie cliniche sono venute fuori bene, perché quanto ebbe l'incidente, ricordo particolare che tutti mi erano addosso e una signora disse, io sono un medico e questo signore ha avuto un ictus. Per me è stato, quanto me lo disse, ce lo disse così, che c'era gente, rimasi molto male. Qual è stata la parte della tua volontà in questo successo? Spiegacelo. Se vuoi, eh? Sì, sì. Io ho un nipote che aveva sette anni. Il suo pensiero ti ha accompagnato, il pensiero, quindi l'amore per i cari. Io ho fatto tutto, facevo panno, tutto per la povera gente. Io facevo i forni di panno, non facevo 10, 30, 40 kg di panno. Mi dava tutto tanto per ciascuno, manciavano tutti. Ma che brava, eh? E' venuto, anzi un dottore ha forse vaccinato da me. Sì, sì, tutto per le altre persone. L'ho fatto tutto, mi venivano a chiamare a lei, tante ci stavano in morbillo, non so, una malattia, ogni tre ore si doveva vaccinare, no? Sto ragazzo, ogni tre ore io mi partavo. Non ho avuto mai paura prima a base, eh? Come hai imparato? Chi ti ha insegnato? Nessuno, da testa mia, per il bisogno necessario. Ma avrai letto qualcosa? No, niente, niente. Lo hai visto fare? No, mio marito stava ammalato, aveva bisogno di una vaccinazione e nessuno ce la voleva fare. Io mi sono messa, ho fatto vaccinazione, ho fatto tutto. Non l'hai chiesto neanche a tua suocera, a tua mamma? No, no, mia mamma non la teneva, teneva mio padre e l'ho tenuto 22 anni ammalato con me, senza di portarla da nessuna parte. Eri e mio padre. Adesso ancora ho fatto del bene, quando sono venuto qua tutti tenevano la tosse, domandate a quel signore la vita, quello con la giacca blu, teneva la tosse? E ora non la teneva la tosse adesso, la tieno più? Con la mia mano ho riuscito a guarire molte persone. Il bene degli altri e il bene di tutti, hai detto tu? Di tutti, di tutti, non facevo particolarità, quello sì e quello no, tutti uguali. Grazie di questa lezione. Il suo successo è stato il successo degli altri. Un figlio, un male cane. E dice che è stato proprio merito tuo, eh? Sì. Perché merito tuo? Dimmi pure, se vuoi raccontarlo, eh? No, no, ma per forza, la mamma è la mamma. La paura c'è e c'è il male, che non mi vengono a dire che uno si dimentica perché... No, 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 no. Dicono male scordone col cavolo. Ok, senti, e qual è stata, diciamo, la parte che è dovuta proprio alla tua intelligenza? No, diciamo che c'è sempre da imparare su tutto, quello è l'ideale. Poi io sono una che... adesso, vabbè, adesso sono un po' infortunata, però mi piaceva parlare. Ecco, quella era la mia soddisfazione. E quindi parlando con le persone ti sei preparata anche psicologicamente? Mentalmente, sì. Sia persone ignoranti nel modo bionno, sia in quelli intelligenti. Poi ho vissuto con i giovani e mi ha aiutato tanto. Sì, perché i giovani vanno a scuola, avevo sempre gli amici in casa, insomma, con gioventù. Grazie, grazie. Un bellissimo consiglio che ci stai dando, eh? Circondarci sempre di persone che ci possono dare qualcosa di conoscenza. Grazie, grazie. Ho avuto mio figlio il primo figlio, ha avuto una crosta alatea che ci ha durato un anno. Era tutto rovinato, il nostro lavoro, forza di darci, starsi dietro. E con la mia pazienza l'ho guarito, non ho più avuto niente. Oh, e qual è stato, diciamo, la cosa che hai messo più in campo di te stessa per guarirlo? Eh, quella cosa lì che l'ho fatta con volontà, con tutta la mia forza. Tenuta di nervi, Marta, giusto? Hai tenuto coi nervi? Io ho tenuto che ho tribolato tanto. A me ci venne subito, appena nato, che ha già durato, che era già che andava da solo. Ma però è guarito, adesso è un ragazzo splendido. Ok. Marta, possiamo dire che il tuo 9 di denari è stato la capacità di tenere i nervi saldi anche in situazioni difficili? Ha la capacità, la vai per forza, ha la capacità. Quando ti trovi in certi casi ti viene la volontà, l'entusiasmo di riuscire. E sono riuscita. Grazie. 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 Grazie.